Grazie! Una passione che viene dal cuore, quella di Red Canziane e della sua famiglia per l'ambiente e la sua salvaguardia. E se tutti conoscono almeno una canzone della sua sterminata carriera di bassista e cantante dei Poo, pochi sanno che Red Canziane ha incontrato decine di migliaia di studenti per trasferire loro anche un po' di questo suo grande amore per la terra e i suoi abitanti, persone, animali o piante che siano. Una passione che gli è valsa un grande riconoscimento, la medaglia d'oro al merito dell'ambiente. Siamo abituati a vederle al petto di militari o combattenti, questa volta il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti l'ha consegnata ad un artista che, trevigiano di nascita, è di fatto un patrimonio nazionale. Questi sono quei premi un po' inaspettati che vanno a pagare una passione naturale che uno ha da sempre. Per cui quando l'onorevole De Gani mi ha comunicato questa cosa io sono stato veramente, veramente tanto felice. Perché sono quelle cose che tu fai col cuore, no? E poi accorgesti che qualcuno se ne è accorto e che ti sono stati vicini e che hanno esaminato quello che hai fatto. È una cosa molto bella. Io ho scritto libri, ho scritto Magia dell'albero, ho scritto storie di vita di fiori. Però credo che uno dei motivi principali sia stato questo progetto che ho fatto con mia moglie, che si chiama Un albero per la vita. E abbiamo consegnato in vent'anni di conferenze, di lezioni che facevamo nelle scuole elementari. Proprio alle prime elementari abbiamo consegnato 25.000 alberelli di essenze autoctone italiane. Quindi dal carpino al faggio all'olmo, tutte quelle piante che fanno parte proprio del nostro territorio. Perché i bambini insomma imparino a conoscerle? Perché solo attraverso la conoscenza si può imparare anche il rispetto. Red Canzian è un artista eccezionale, ma è anche un uomo eccezionale. E ha fatto del suo stile di vita anche un esempio di quello che sono le tematiche ambientali, di come devono essere trattati i temi ambientali. Sia aiutando i ragazzi nell'educazione ambientale nelle scuole, sia parlando, discutendo, colloquiando sui temi dell'ambiente e di ciò che ci circonda. 25.000 piccoli alberi per gli alunni delle scuole, un'eredità che crescerà con loro e con un po' di fortuna potrà essere lasciata anche ai loro nipoti. Red Canzian ha abbracciato questa filosofia in tutti i sensi, cambiando anche la sua alimentazione. A febbraio uscirà un libro per la Rizzoli che si chiama Sano Vegano Italiano, che parla della mia scelta vegana a livello alimentare ma soprattutto a livello etico. Il libro sarà diviso a metà perché io parlo dell'etica vegana e nell'altra metà Chiara, mia figlia, nostra figlia, farà vedere 50 ricette vegane perché è molto brava a inventare e a cucinare per far capire che i vegani mangiano bene, mangiano sano e stanno benissimo.